Allora, signori, vi chiedo per favore di metterevi in fila in ordine di arrivo. E adesso, signore e signori, chiamiamo il penultimo partecipante di oggi, il numero 5. Venga, venga, mico mio, la prego. Lui dice, io sono Tony Manero. Fermati, Raul, mi stai distruggendo il bar. Fermo lì, sparo! Fermo, attento! Fermo, figlio di puttana! Felizio, me libero. Quella è uno di Lenky. Tu non lo sei, tu appartieni a questo posto, alla stessa comunità come tutti noi. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Non più. È finita. Grazie. 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 Grazie.